I presidi di chi ha già la protesta per la mancanza di lavoro sono aumentati, picchetto di operai sulla strada di eccesso all'ingresso e dello stabilimento. Quanto deciso a Roma giovedì scorso non risolve i problemi. Si chiede il lavoro, no alla Cassa Integrazione che ha un tempo prestabilito. Noi non chiediamo la Cassa Integrazione, forse noi l'assistenzialismo non l'abbiamo mai chiesto, noi chiediamo solo il lavoro, quello che ci è stato rubato, negato da questi signori. Adesso noi ci siamo spostati dai blocchi perché è inutile danneggiare ancora il nostro cittadino che ci sta vicino. Noi cerchiamo di abbassare l'economia che alleni alla produzione che perde così qualcosa, solo così ci possiamo far sentire, penso. Siamo sempre punto a capo, non è che abbiamo risolto qualcosa. Ma cosa si potrebbe fare? Cosa dovrebbero fare i signori a Roma? No noi, noi possiamo solo manifestare la nostra dignità che abbiamo perso, che ci hanno fatto perdere questi signori. Dopo 30 anni di stabilimento ci hanno buttato fuori così, come se niente fosse, gente che ha dato l'anima là dentro. Intanto una riunione per la verifica del protocollo di intesa ENI per l'area di Gela si svolgerà l'11 febbraio prossimo presso il Ministero per lo Situppo Economico a Roma. Una apposita convocazione è pervenuta alle parti firmatarie del documento di programmazione industriale, cioè il Ministero dell'Ambiente, la Regione Sicilia, il Comune di Gela, l'ENI, Confindustria e i sindacati confederali Cigel, Cisle, Will e UGL. Si farà il punto della situazione in cui si trovano i lavori programmati dal protocollo siglato il 6 novembre del 2014, con cui l'ENI si era impegnato ad investire in Sicilia 2,2 miliardi da spendere in attività di ricerca di nuovi giacimenti di idrocarburi nella bonifica delle aree dismesse del petrochimico di Gela e di pertinenza dei pozzi petroliferi e nella riconversione della raffineria di Gela in green refinery per la produzione di biocarburanti. Ritardi nel rilascio delle autorizzazioni ministeriali hanno paralizzato alcune iniziative causando il blocco delle imprese dell'indotto e le attuali proteste dei lavoratori rimasti senza reddito e senza strumenti di sostegno. Dopo 30 anni di stabilimento ci hanno buttato in mezzo a una strada senza nessuna forma di tutela, senza nessuna forma... e anche quando abbiamo avuto questa tutela abbiamo avuto la cassa integrazione, la cassa integrazione è arrivata sempre dopo due mesi, tre mesi, non si capisce il motivo. Quando in altre parti puntualmente ogni mese è arrivata. Come mantiene la famiglia? Come mantengo la famiglia? Con l'aiuto dei genitori, dei suoceri, con i pensionati. L'ENI tuttavia conferma la validità dei propri impegni ed annuncia l'inizio della costruzione dei nuovi impianti entro l'inizio della primavera 2016. Per accelerare l'iter delle autorizzazioni di canterizzazione è stato deciso di convocare per il 18 febbraio a Roma una apposita conferenza di servizi col Ministero dell'Ambiente. Grazie a tutti.